E ora basta un ritardo nel pagare anche poche centinaia di euro per finire sulla lista nera dei cattivi pagatori. L'Unione Europea ha infatti inasprito le norme sul rimborso di rate e debiti, una situazione che preoccupa cittadini e imprese. Paolo Pini ne ha parlato con il Presidente dell'ABI, Patuelli. Sono entrate in vigore dal 1 gennaio norme europee molto più stringenti sul debito bancario per finire nell'elenco dei cattivi pagatori della centrale dei rischi della Banca d'Italia sarà sufficiente un arretrato superiore ai 90 giorni per un importo di 100 euro per i privati e di 500 per le imprese e superiore all'1% del totale delle esposizioni con la banca. Un grave pericolo per la solidità economica di molte persone già sfibrate dalla pandemia che rischerebbero il default, dice Antonio Patuelli, Presidente dell'ABI che riunisce le banche italiane. Default significa scadenza non rispettata, quindi chiunque non paga quanto si è impegnato a pagare entro a quella scadenza può finire in default. L'ABI, tutte le forze imprenditoriali e sindacali chiedono da tempo un provvedimento europeo per bloccare la norma che però è entrata in vigore, prevenire i mancati pagamenti ed aprire linee di credito garantite alle soluzioni al momento possibili. Bisogna prevenirlo anche utilizzando i prestiti più o meno garantiti dallo Stato. Ci sono possibilità giuridiche nuove introdotte nella legislazione e che funzionano. Bisogna prevenire con una maggiore attenzione sia da parte di chi ha contratto i debiti sia da parte delle banche, avendo un colloquio preventivo rispetto alle scadenze che si temono di non poter onorare.